La decisione sull'archiviazione è arrivata e forse non era neanche così in attesa. Il giudice per le indagini preliminari quindi ha deciso ed il caso Bergamini è chiuso, almeno per quanto concerne questa seconda indagine, riaperta dopo oltre 20 anni della sua morte. Del resto c'era già stata una richiesta di archiviazione che aveva visto l'opposizione della famiglia, ma che ora ha anche trovato il consenso del GIP che ha stabilito che la richiesta di archiviazione per insufficienza probatoria è condivisibile e deve essere accolta perché sarebbe emersa, a parere del giudice, l'infondatezza della notizia di reato, ovvero la mancanza di elementi di prova. Ciò che è certo è che in città nessuno crede alla testa del suicidio e che la famiglia non si arrenderà. E anche il procuratore di Castrovilla, Eugenio Facciolla, sarebbe pronto a riaprire le indagini qualora dovessero emergere nuovi elementi e la stessa famiglia del calciatore ha annunciato una nuova perizia che potrebbe consentire di determinare con maggiore precisione l'ora della morte dell'ex calciatore del Cosenza.